Il commissario Luigi Alfredo Ricciardi, nato dalla pena dello scrittore Maurizio De Giovanni, che indaga nella Napoli degli anni 30 e che ha il dono di vedere i morti nel loro ultimo istante di vita, diventa un fumetto. Da domani infatti esce in libreria per la Sergio Bonelli editore Il Senso del Dolore, il primo di quattro adattamenti a fumetti dei romanzi di De Giovanni, ad opera di Claudio Falco e Daniele Bigliardo, e che è stato presentato ieri al Teatro Acacia. Il Senso del Dolore è ambientato nella Napoli del 1931, dove il grande tenore Arnaldo Vezzi viene trovato morto nel suo camerino del Real Teatro San Carlo, prima della rappresentazione dei pagliacci di Ruggero Leoncavallo. E spetta al commissario Ricciardi, in forza alla squadra mobile della regia Questura, trovare l'assassino. Il commissario Ricciardi a fumetti non è traduzione in realtà della mia inventiva letteraria, ma la traduzione di quanto io avevo immaginato in un'altra fantasia. Così Maurizio De Giovanni. Un'emozione straordinaria, sono bravissimi, è una cosa ben diversa da una riduzione televisiva, perché qui si tratta di una trasposizione da fantasia a fantasia. Cioè il personaggio è di fantasia e del personaggio è di fantasia, anche questo è quindi il modo più diretto e vicino di vedere fisicamente i tratti di un personaggio che io ho soltanto immaginato.